Amici di Youtube ben trovati da Marco Liguri, piove sul bagnato per la regione Marche, segnaliamo un nuovo terremoto, non si placa lo sciame sismico che da novembre purtroppo interessa la costa marchigiana, il nuovo terremoto di grado 3,3 della scala Richter è stato rilevato. Tra Fano e Ancona sono stati due mesi davvero difficili per la bellissima regione, tantissimi terremoti, una continua attività sismica, uno sciame sismico che purtroppo non sembra avere fine, il secondo gale di Marco Liguri vi terrà informati sull'attività sismica che potrebbe colpire le marche. Amici di Youtube vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video.